Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come ha detto al titolo oggi vi dirò il numero di tutta la illuminati club allora prima chiamerò loro e poi ha finito il numero chiamerò tutti e visto che la chiamata potrebbe durare cioè il video potrebbe durare molto se faccio sentire tutta la chiamata faccio sentire un'ospensione di chiamata per ciascun membro così crederete ok ragazzi partiamo con chiamare il vostro caro dexter tengo già il numero ok ragazzi ora metto il mio voce che sta squillando pronto texter? e ciao a tutti amici sono il vostro caro dexter ok ragazzi adesso chiamerò jumpy tech quando rispondere metti il mio voce pronto jumpy tech? sarà difficile questo video ma ok ragazzi ho chiamato jumpy tech ora chiamerò ho chiamato dexter no aspetta ho chiamato jumpy tech ho chiamato dexter adesso chiamerò murry ok ragazzi ho chiamato oh ragazzi ho chiamato ho chiamato adesso chiamerò mike ho chiamato pronto mike salve a tutti ragazzi ragazzi ora chiamerò uno dei personaggi più divertenti all'inizio ovvero stormy non lo chiamare pronto stormy? ciao ragazzi siamo a budapest ciao ragazzi siamo a budapest ciao ragazzi 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 ho chiesti kiire se lasciate un like perché comunque rispetto agli altri video quel montaggio è stato più complesso più complesso e più complesso ne faccio un misto più di decimune ovviamente come se non voglio fare delle molte di like però vi chiedo, chiamalo con più delle parete, cioè in modo più ripetitivo i like perché ci devono molto perché comunque ho messo un tempo per montare, ovviamente se non vi piace vi tagliare ancora e non ti lasciare un dislike o ne che ti faccio le mostre, comunque ti vedo la storia che vi sia piaciuto, se iscriviti, iscriviti al canale e lasciare un like, non lo sia bello